sorpreso ti avevo promesso che avremmo passato del tempo insieme oggi ho pensato bene di venirti a prendere la stazione prego si prospetta un'altra bella giornata oggi sia una bella giornata solo che non è più il tempo delle more e non penso neanche che tornerà più altrimenti ci saremmo fermati a raccoglierle un autista così penso sia un privilegio rispetto a pochissimi ma non è da tutti avere il passerotto interruta dall'autista che viene a prenderti grazie 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 grazie